A partire dal 30 marzo 2025 la Calabria rafforzerà la sua connettività internazionale grazie a Ryanair che ha annunciato 5 nuove rotte degli aeroporti di La Mezzia Terme e Crotone. L'obiettivo è chiaro, rende la regione una meta turistica di crescente richiamo rispondendo alle esigenze di viaggiatori locali e internazionali. Dall'aeroporto di La Mezzia Terme si potrà volare direttamente verso Bucarest, Bleslavia, Madrid e Trieste mentre dall'aeroporto di Crotone partirà un nuovo collegamento internazionale a Dusseldorf. Questa espansione mira a rafforzare l'immagine della Calabria con destinazione attraente sia dal punto di vista turistico che quello culturale attirando un flusso crescente di visitatori da Germania, Polonia, Romania e Spagna. Il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha espresso soddisfazione per la decisione di Ryanair, osservando come i risultati ottenuti nel 2024 abbiano consolidato la fiducia della compagnia nella Regione. Occhiuto ha sottolineato l'impegno del suo governo regionale a migliorare ulteriormente i collegamenti aerei, valorizzando un potenziale che fino a pochi anni fa rimaneva in gran parte inespresso. Gli aeroporti, dice il Presidente della Calabria, sono in grande salute con un numero di passeggeri in costante crescita. Stiamo lavorando per ampliare i collegamenti interni con le principali città europee, puntando a posizionarci come protagonisti nel mercato globale del turismo internazionale.